Domenica 11 giugno siamo al mercato Saracena per una gara pudistica organizzata da EasyRunner con l'amministrazione comunale e tanti volontari e sponsor. Questa gara pudistica è competitiva di 13 km e la non competitiva è di 9 km. Sono con Davide, andiamo a ritirare numerine e poi iniziamo. Ci sono tantissimi atleti, io ho visto che ci sono atleti anche un po' da lontani che sono venuti qua perché questa è una gara molto conosciuta, è una gara storica quindi la gente piace. Poi devo dire che anche se è una giornata calda però si sta bene qui, la temperatura è ideale. Io ho preso il mio numero che sono il numero 75 e dovremmo essere circa 200-300 atleti. Sono 8 e 10 minuti, la gara parte alle 9. Io già sono pronto però mi preparo, metto le scarte e poi facciamo il riscaldamento e dopo il riscaldamento alle 9 si parte. Questo è l'arrivo. Questo è l'arrivo. Ok, dietro a me c'è anche spogliatoio qua. La gara è organizzata benissimo. Spogliatoio è importante perché possiamo appoggiare le borse, possiamo fare la doccia qua, quindi serve. Poi di là c'è anche il bar, ci sono atleti che si stanno anche preparando. Allora. C'è anche gli altri, lo vedo? Sì, sì, ci siamo una decina. Ah, si, si. Sto ascoltando fuori. Sì, noi questi ce li abbiamo qua nel stadio. Nelle 12 categorie in lista e sono 8 maschini e 4. Da, dai degas come si dice, siccome i proprietari è necessario avere o un pettorale, cioè o il pettorale che... Andiamo verso la linea di partenza. Sì, aspetta lì. Lasciate l'uomo. Lasciate l'uomo. Forse è? Forse è dura, però non ce la faremo. No, sì. Tra pochi minuti partiamo. Aspetta, credi, siamo pronti, siamo in questa strada. Doveva essere un chilometri o un po' la dici e poi inizia la salita. Ok, come ha detto l'organizzatore, andiamo più avanti, al video giriamo adesso e poi inizia la salita. Sì, grazie. ecco siamo partiti ultimamente va bene a fronte a mare io sono presito il piano 3.45 andiamo a crescere di seta 3.45 E' la scuola 4.45 4.45 5.45 6.45 6.45 6.45 e inizia di nuovo la salita, siamo al terzo chilometro abbiamo superato il terzo chilometro questa è la discesa, la discesa di Vila dicesimo chilometro finita la gara, 53 minuti per cese per cese facciamo tantissime salita e poi io disceso ho perso ho perso da mie compagni almeno un minuto e mezzo o due perché loro sono iniziati a recuperare l'indicesa ma tutto sommato sono contento perché dai, non me lo aspettavo sembra che sono abbastanza in forma poi questa non è una gara per fare bene bene, anche Davide ha finito in 51 minuti non è molto contento lui perché in salita l'ha pagato un po' quello dai va bene siamo convincitore bravo, complimenti grazie come andate la gara? bene dai, sono contento, divertente, molto piacevole si resta sempre sulla cresta di Apennini anche a livello paesaggistico, molto bella quindi dai, sono contento del corso si, si, in pugnativo ma anche la discesa era abbastanza ripile quindi non permetteva di lasciarsi andare alla fine a livello come sei riuscito a gestire la gara? sei partito forte, l'adilizio? no, no, sono stato abbastanza in controllo soprattutto in salita e anche il concetto di Vasco dell'altro giorno ti è piaciuto comunque la gara? si, si l'organizzazione com'è? perfetta bravi anche a fermare le macchine e tutto dai, è stata una piacevole esperienza grazie adesso vi faccio vedere una cosa molto bella molto interessante guarda così ci offrono vi faccio vedere il storo il gelato! finalmente si mangia il gelato è la prima volta che mangia il gelato quest'anno ecco il nostro gelato buonissimo mi hanno comunicato l'arrivo del sindaco Monica Rossi ci vuole cosa c'è qui? una classifica societaria per la San Maurese? sverniciato via partiamo e torniamo a rimini ciao, alla prossima